La Commissione Sanità dell'Ars ha detto sì questa mattina al decreto di accorpamento dell'IRCS Centro Neurolesi con l'ospedale Piemonte, una realtà tanto decantata e agognata da chi avrebbe voluto il mantenimento del pronto soccorso al centro città e che si concretizza dopo continui rinvii della seduta della Commissione preposta. L'indecisione dell'assessore alla salute Balto Gucciardi ha fatto la sua parte, il voto dell'organo legislativo dell'Ars è stato quasi interamente favorevole tranne per i 5 Stelle, in primis la deputata Valentina Zaffarana che hanno ribadito il loro no. Ma cosa succederà adesso? Il decreto andrà alla fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non prima della prossima settimana, in 3-4 giorni transiterà ai Ministeri dell'Economia e della Salute solo per una formalità, una presa d'atto, riferisce il parlamentare Beppe Picciolo. La copertura economica è quella che compare a chiare lettere nel testo normativo integrale, 8 milioni e 100 mila euro recuperati dal budget dell'azienda Papardo e decurtati dalle spese del personale preventivate nel 2016. L'ospedale a nord della città, che resta in piedi senza l'ala del Piemonte, potrà gestire circa 82 milioni di euro per sostenere l'organico che non si sposterà al neurolesi. L'IRCS ne avrà circa 20 milioni di euro. Saranno 163 le risorse umane destinate appunto alla struttura Bonino-Puleio, oltre alle 270 già esistenti nella propria dotazione. Gli 84 posti letto ceduti dal Papardo comprendono quattro posti in più di quelli previsti da 80 a 84 che sono di neurologia, esattamente di stroke unit per la cura dell'ictus. Questo potrebbe voler dire che il Papardo dovrà rinunciare alla sua stroke unit. L'assistenza per acuti sarà una delle mission sanitarie oltre alla riabilitazione, secondo quanto stabilito dal Ministero della Salute. Il pronto soccorso si avvarrà di otto posti letto di osservazione breve. Resta da delineare l'organico in forza a questo reparto. Al momento è presente solo la metà. Dalla notifica del decreto sono stati disposti 120 giorni per riordinare le strutture IRCS e Papardo e per ridefinire le somme adeguate per entrambe. Almeno potranno partire le nuove piante organiche la cui mancanza bloccava i servizi.